Altre caratteristiche, qui vado più rapidamente, l'incremento degli androgeni, sia valutabile con degli esami di laboratorio, quindi con il dosaggio degli stessi, sia da un esame clinico vero e proprio, tant'è vero che molto spesso il primo segno che ci fa pensare che quella determinata donna possa essere affetta dal guaio micropolicistico è proprio l'irsutismo associato all'alopecia, all'acne e alla seborrea. Quindi segni periferici fenotipici di iperandrogenismo. Andrei rapidamente sulla fisiopatologia, abbiamo fattori ormonali, fattori anche paracrini, tra i più recenti l'antimulleriano è stato molto studiato anche come meccanismo fisiopatologico della policistosi ovarica. Sappiamo che in queste donne è aumentato fino a 2-3 volte rispetto ai controlli, quindi abbiamo dei valori generalmente superiori a 3. e questo poi ha dei riflessi molto importanti nel momento in cui ci troviamo a trattare queste donne, a stimolarle per ottenere l'ovulazione.